In questi buoni auspici, nel novembre del 1939, Maria e Mario Montessori partirono su di un piccolo aereo postale. Durante tutti questi anni abbiamo lavorato intensamente e l'idea si è completata. Credo che ora abbia raggiunto un completo svolgimento nella interpretazione del bambino con la sua mente assorbente. E infine il piano di tutti gli studi con l'educazione cosmica che è un coronamento e un completamento. Il materiale che era prima limitato adesso è ricchissimo. È ricchissimo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.